Un altro figlio della Chiesa bolognese è stato ammesso al Sacramento dell'Ordine. Nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, Don Francesco Babbi ha ricevuto l'ordinazione diaconale nella Cattedrale di Porto Santa Rufina, nella periferia di Roma. Francesco appartiene alla Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo, alla quale è approdato dopo aver frequentato il Liceo Malpighi di Bologna e la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Insieme con lui hanno ricevuto l'Ordine del Diaconato altri tre confratelli e un altro l'Ordine del Presbiterato. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Gino Reali, Vescovo di Porto Santa Rufina.